Quando i figli non arrivano, la coppia si rivolge chiaramente dai propri specialisti, la donna va dal ginecologo, l'uomo va dall'andrologo, ma spesso, prima di andare dall'andrologo, esegue uno spermiogramma. Lo spermiogramma deve indagare su alcuni parametri del nostro liquido seminare, essenzialmente la presenza di spermatozoi, la loro quantità, la loro mobilità progressiva e la presenza di forme tipiche, parametri di cui parleremo in prossimi video. Capita, può capitare, che nello spermiogramma non ci sia uno spermatozoi. Chiaramente si va in ansia, si va in panico. Come dobbiamo comportarci? Innanzitutto, sembra un consiglio poco utile, ripetere lo spermiogramma. Ci può essere stato un errore, una cattiva conservazione? Ricordiamoci che lo spermiogramma, il liquido seminale, deve essere studiato entro mezz'ora dalla raccolta, tant'è vero che nella maggior parte dei centri si chiede al paziente, all'uomo, di raccogliere il liquido seminare in sede. Quando non ci sono spermatozoi, questa situazione prende il termine in nome di azoospermia. Essenzialmente ne riconosciamo due forme. Una azoospermia secretiva, è il testicolo che non produce. La situazione forse è più seria, un po' più complessa. Per indagare dobbiamo eseguire degli esami ormonali, il dosaggio dell'FSH, che si alto conferma la presenza di una forma secretiva, e l'inibina B, è una proteina prodotta dalle cellule del sertoli, che sono un po' le infermiere degli spermatozoi. Se anche l'inibina B è bassa, vuol dire che questo testicolo sta lavorando molto male. Le forme invece di tipo ostruttivo sono un po' più a nostro favore. Nel senso che il testicolo produce gli spermatozoi, ma questi non riescono a raggiungere l'esterno, probabilmente perché vi è appunto una ostruzione delle vie seminali, spesso conseguenti a processi infiammatori e infettivi delle vie seminali, quindi prostatiti ed epididimiti recidivanti non ben curate, o talvolta per delle forme congenite di ostruzione, spesso presenti nella fibrosi cistica, o per delle compressioni anche esterne di tipo meccanico, come ad esempio nelle cisti che sono nella prostata, all'interno della prostata, dove c'è proprio crocevia delle vie seminali. Una cisti, quindi dell'uletra, potrebbe essere un ostacolo facilmente risolvibile. Quindi, anche in questo caso, oltre a fare gli esami che ho detto prima, eseguire anche un'ecografia prostatica con la sondina translettale per escludere la presenza di una cisti, ed eseguire poi chiaramente dei test genetici legati al cromosoma Y e al CFTN, cioè il gene che identifica la fibrosi cistica. Nulla è perduto nelle azotermie ostruttive, facilmente si possono prelevare gli spermatozoi a livello dell'epididimo, dove sono presenti, e quindi poi procedere a una fecondazione assistita. Ma anche nelle forme segretive, spesso troviamo nei tubuli degli spermatozoi, quindi con la tese, la microtese, con tecniche microchirurgiche, possiamo prendere gli spermatozoi all'interno dei tubuli e procedere quindi poi a una fecondazione assistita. Grazie a tutti e buona giornata!